Penso che ci siano vari livelli per affrontare il problema. Un tema minimo di riferimento, ma è uno di quelli meno compresi, è la sostenibilità sociale nel senso della salute, della protezione e anche della legalità dei meccanismi particolari del lavoro. Questo è un tema che è stato abbastanza ignorato in passato. Oggi nella nuova politica agricola comune è in agenda un discorso su dei requisiti minimi di sostenibilità sociale come forma di condizionalità anche per i pagamenti europei. C'è molta difficoltà a portare avanti questa istanza, ma credo che quello sia un requisito estremamente importante che permette almeno di stabilire dei livelli minimi da questo punto di vista. Un secondo livello, secondo me, invece sicuramente più costruttivo, che ha a che fare con gli aspetti sociali, ma anche ha a che fare con il tema delle competenze, della formazione, è il fatto che dobbiamo pensare in modo nuovo le persone che lavorano nel settore. Non è più soltanto un problema di conoscenza tecnica, di nozioni, di conoscenza di tecnologie, è un problema di avere la capacità di entrare in un contesto e di mettere a frutto queste conoscenze insieme anche a delle capacità personale per risolvere dei problemi e anche per creare dei futuri nuovi che non abbiamo ancora pensato. Questo si collega anche ai processi di creatività, di imprenditorialità, di iniziativa eccetera e su questi temi anche nell'ambiente universitario stiamo iniziando un processo che potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui formiamo i giovani. Ormai c'è la percezione evidente che bisogna lavorare in modo diverso, deve essere soprattutto un ambiente in cui si stimolano le persone a capire quelle che sono le proprie potenzialità, le proprie capacità e poi anche ad uscire diventando capaci di entrare in un contesto produttivo e mettere a frutto queste capacità. Questo tra l'altro è una cosa che riguarda la formazione ma riguarda un po' tutto il contesto anche normativo, imprenditoriale, anche la cultura dell'iniziativa e dell'imprenditorialità. Chiaramente se parliamo di territori come la provincia di Rimini mi sembra che non sia sicuramente un ambito dove manca l'iniziativa e manca questo sentire, però deve essere una, in prospettiva non può più essere una cosa che nasce per una casualità storica, deve essere una cosa in cui c'è un incentivo esplicito a queste, su queste cose. Poi sul piano sociale secondo me c'è un'altra questione importante ed è che in passato un po' tutti i nostri territori per ragioni legate all'evoluzione demografica e anche dei processi insomma di lavoro, vita familiare eccetera, eravamo tutti molto legati all'ambiente agricolo e rurale per cui anche chi faceva un qualsiasi altro mestiere, aveva anche un piede nel mondo agricolo. Oggi questo è un fenomeno che ormai manca, manca molto di più di quanto almeno insomma fosse in passato, per cui dal punto di vista proprio anche della socialità, della presenza, dei legami personali, dei legami familiari, deve essere sostituito credo con qualcos'altro in modo che quando uno viaggia su un'autostrada e si guarda attorno, non veda solo degli alberi ma sappia che cosa c'è dietro. Servirà un tessuto agricolo di persone che dall'imprenditore agricolo all'ultimo operatore abbiano capacità di dialogare con un mondo digitale e abbiano una conoscenza anche dei processi biologici, ecologici, agroecologici, oggi va molto di moda il termine agroecologia che gli permetta di collocarsi nei nuovi contesti. Teniamo conto che quando si parla, ad esempio quando si usa il termine agroecologia, che dovrebbe essere una forma di agricoltura che sfrutta al massimo la conoscenza dei processi biologici ed ecologici che ci sono tra le culture e gli altri esseri viventi, in realtà parliamo di forme di agricoltura che non sono primitive, sono forme di agricoltura che richiedono un altissimo livello di conoscenza e di comprensione dei processi e anche di monitoraggio e utilizzo delle informazioni che vengono da questi monitoraggi. Quindi servono assolutamente gli operatori in grado di colloquiare con tutte queste cose, ma soprattutto credo che serva veramente un salto di qualità nelle persone che hanno un po' il ruolo di intermediare tra le aziende agricole e ovviamente l'industria, la trasformazione, ma anche gli altri settori e che lavorano in quello spazio che in passato veniva spesso riempito con l'assistenza tecnica agricola, ma che in realtà adesso ha soprattutto bisogno di persone con una mentalità di tipo progettuale molto aperta e che riescono a coordinare gli altri operatori per dei progetti di innovazione che abbiano un significato locale, ma guardando al contesto internazionale. Oggi quando si parla di, non so, di clima o per esempio di questioni legati al clima proprio, se uno non ha una visione globale di quali sono le istanze, di dove sono i problemi, non può neanche fare un progetto sensato sul piano estremamente locale. Quindi anche in termini di pianificazione, forse anche in termini di pianificazione non è più un termine che vada proprio nella direzione che servirebbe perché dà forse un messaggio non coerente con come sta diventando il contesto. Però credo che la cosa veramente importante sia avere delle figure che abbiano questo ruolo di intermediari e che possono realizzare sul piano della progettazione e anche dell'identificazione di quelli che possono essere i percorsi e possono aiutare i territori a trovare un po' il loro futuro.